Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Oggi voglio iniziare con una notizia che ho avuto modo di apprendere stamane in uno dei telegiornali sulla sulla radio. La storia è quella di una famiglia di Bustrassizio in provincia di Varese che da qualche tempo è costretta a vivere in macchina. La storia è quella di un padre di famiglia che qualche tempo fa ha perso il lavoro e due mesi fa questa famiglia è stata sfrattata dal suo alloggio nelle casi popolari. Ora quest'uomo è stato intervistato dal tg della Lombardia e raccontava come lui siccome avendo 58 anni era ancora lontano dalla pensione fosse in cerca di lavoro e ogni qualvolta si presentava per un posto di lavoro in qualche modo gli dicevano che era troppo vecchia. Una storia agghiacciante ripeto cinque persone padre madre tre figli costrette a vivere in macchina. Se fossero stati dei migranti degli extracomunitari avrebbero già ricevuto gli aiuti e appunto se fossero degli migranti avrebbero ricevuto le 42 euro giornaliere. Così però non è perché sono italiani e quindi in qualche modo l'aiuto non è arrivato malgrado questo padre di famiglia abbia chiesto ovunque al comune alla parrocchia l'unica cosa che gli è stato offerto sono praticamente un paio di posti letto. Ripeto la famiglia è composta da cinque persone. Ha ben ragione Federico Rampini giornalista della Repubblica che a me piace molto per il suo grande equilibrio ma soprattutto per la sua obiettività nel giudicare le cose che diceva qualche giorno fa che la sinistra si occupa degli ultimi ma si è dimenticata dei penultimi che sono gli italiani. Questa purtroppo è la realtà e quindi ci troviamo sempre di più di fronte a questo tipo di situazioni davvero drammatiche. Ora veniamo ad alcune notizie ieri sera ho avuto modo di assistere alla trasmissione sulla sette condotta da Giovanni Floris. L'argomento iniziale era quello della giunta delle comunità parlamentari che aveva deciso grazie ai voti della Lega di mandare a processo Matteo Salvini. Ora se vi ricordate quando Matteo Salvini e il centrodestra ritenevano che fosse assurda questa cosa perché semplicemente Matteo Salvini aveva difeso i confini della propria nazione, del proprio paese, quelli di sinistra gli davano del buffone. Ora che Matteo Salvini ha deciso di farsi processare in qualsiasi modo gli danno ugualmente del buffone perché dicono che fa la vittima. Vedete questi sono i comportamenti della sinistra. Ora la cosa che mi ha lasciato ancora di più esterefatto è il tentativo ormai sono abituato a questi tentativi da parte di Marco Travaglio che era presente nello studio di stravolgere quella che è la verità e soprattutto di manipolare addirittura la Costituzione. Lui ha cercato di farci credere come se il primo ministro Giuseppe Conte non avesse alcuna responsabilità in quanto era stato soltanto Matteo Salvini a prendere questa decisione e quindi era l'unico che poteva essere imputato in questa storia. Perché dico che ha cercato addirittura di manipolare la Costituzione? Adesso ve lo dimostro e vi leggo l'articolo 95 della nostra Costituzione che dice testualmente il presidente del consiglio dei ministri dirige la politica generale del governo e ne è responsabile mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Ora capite l'articolo dice chiaramente che dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Ora vedete io credo che talvolta nel riuscire a capire le cose basta essere molto chiari e portare degli esempi che noi conosciamo bene in qualsiasi azienda che è fatta a livello diciamo gerarchico in modo piramidale dove ci sono dei capi uno risponde a un capo che ha la responsabilità. Cosa vuol dire? Che su tutte le cose che voi fate lui può intervenire e incidere può cambiare le vostre decisioni ed esattamente quello che prevede la Costituzione per il primo ministro dalla Repubblica Italiana. Quindi se Conte avesse voluto avrebbe tranquillamente potuto intervenire ed impedire che i migranti della Gregoretti rimanessero sei giorni al largo di Lampedusa. Se non l'ha fatto vuol dire che era perfettamente d'accordo perché chi tace ha consente. Invece ancora una volta il signor Travaglio ha cercato addirittura ripeto di stravolgere la Costituzione. Un atto estremamente grave. Tra l'altro negli studi della Sette erano presenti anche le Sardine. Santori credo da Bologna era collegato ed erano presenti in studio tre suoi colleghi. Ora negli studi a fare domande alle Sardine c'erano Sallusti, c'era Sinaldi e in particolare Sallusti al quale è stato dato il compito di fare la prima domanda. Intanto ha sottolineato il fatto che in obiezione a quello che stava dicendo Santori i giornalisti parlavano soprattutto di Salvini e di quello che era l'argomento principale delle Sardine anche perché le Sardine non avevano altri argomenti e le Sardine in qualche modo a qualsiasi altra domanda loro venisse fatta non avevano mai risposto. A questo proposito Sallusti ha detto vediamo io vi faccio una delle tantissime domande che potrei farvi così a caso per quanto riguarda ad esempio la prescrizione sulla giustizia. La domanda è stata rivolta a Santori che dopo aver fatto una faccia così esterefatta per qualche secondo se ne è uscita con una frase che io credo che nessuno ha capito. In pratica volendo forse fare una metafora ha detto ma vede è la stessa cosa come se lei chiedesse ad un bambino autistico di prendere con le mani una palla da basket e questo le ritrae perché non sa usare le mani. Io francamente ho fatto fatica a capire io non so se lui si riferisse a se stesso o a che cosa. Capite al di là dell'incredibile che queste persone questi ragazzi sono totalmente impreparati è la risposta che lascia ripeto alibiti. Tra l'altro la stessa domanda poi è stata posta ad una ragazza presente negli studi che non ha avuto di meglio che rispondere. Ah ma io su questa materia non sono preparata mi devo informare. Cioè guardate anch'io nella vita ho studiato altro non ho studiato giurisprudenza ma tutti i giorni un po' per passione un po' per deformazione professionale leggo i giornali e sono uno insomma abbastanza informato a 360 gradi rispetto a quello che succede nel nostro paese quindi anche sulla prescrizione che riguarda la giustizia così come su altri temi. Questo però è il livello nel quale noi ormai ci troviamo. Ragazzi che vengono invitati tutti i giorni negli studi di Rai 3, di La 7 e anche di altri emittenti che non hanno nulla da dire perché assolutamente si trovano totalmente impreparati. Il loro unico argomento è contro qualcuno contro Matteo Salvini. Tra l'altro quando poi è stato chiesto a questi ragazzi e in particolare a Santori per chi avrebbero votato domenica Santori ha risposto ma io non voglio rispondere sono fatti miei. Scusate a me se venisse chiesto per chi voto ma io orgogliosamente dico che da 30 anni voto per la Lega. Questi non hanno neppure il coraggio delle proprie azioni e del proprio pensiero. Questo è purtroppo il livello nel quale noi siamo arrivati nel nostro paese. Ultima cosa sulla quale vi posso aggiornare stiamo continuando a lavorare sulla manifestazione dell'otto di febbraio in tutte le regioni. Nei prossimi giorni spero già di in qualche modo anticiparvi le città nelle quali noi vorremmo essere presenti però ricordatevi sempre quello che ho detto ieri ti fosse disponibile ad organizzare nel proprio paese nella propria piccola cittadina una manifestazione è assolutamente il benvenuto ce lo comunichi vi daremo una mano per poter organizzare queste manifestazioni perché più siamo meglio è. Con questo io vi saluto e vi auguro buon pomeriggio.